All'inizio io pensavo che avrei esposto i miei lavori all'interno di una cantina. Quindi lei aveva pensato a questa cassa toracica con le mani che sarebbe stata appesa sul soffitto e avrebbe avuto un meccanismo che le avrebbe dato un movimento simile al volo. Come anche una cassa toracica con polmoni che respirano. Alla fine ha deciso che si trattava di una cosa troppo complicata perché non ci sono differenze nell'energia elettrica che si usa e quindi sarebbe stato un lavoro troppo complicato da portare qui. Si chiama la gabbia, diciamo, invece che gabbia toracica, la gabbia che vola, volante. L'idea era quella di imprimerle un movimento. L'idea era quella di imprimerle un movimento. Alla fine ha deciso che si trattava di imprimerle un movimento. Non ci sono un movimento.